Grande successo di partecipazione e di gradimento ha riscosso il progetto organizzato e messo in atto da Rotarie di Locri sul tema della prevenzione dell'obesità infantile, sperimentato nella scuola alimentare Michele Bello di Siderno e conclusosi presso la stessa sede con la premiazione finale di tutti i bambini partecipanti. L'iniziativa, promossa dal presidente 2017-2018, dottor Francesco Asprea, ha visto impegnati il maestro e campione mondiale di arti marziali, Vincenzo Orsino, responsabile del progetto e del modulo dedicato all'attività sportiva e responsabile del servizio di prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria, esperto di nutrizione, dottor Giuseppe Mirarchi, per la parte medico nutrizionale, coadiuvati dal prefetto dottor Teccio Tortora. I due moduli avviati nei primi di ottobre hanno consentito ai bambini di prendere piena consapevolezza di una migliore fruibilità della funzione motorio-cognitiva del proprio corpo, con esercizi specificamente mirati in un clima di gioco e divertimento. Con il modulo dedicato alla cura dei sani principi dietetici della buona abitudine alimentare, i bambini hanno potuto poi rafforzare e integrare le loro conoscenze nel perfezionare il rapporto con il cibo. Sempre più necessario per agire preventivamente sulle principali cause di obesità infantile, prendendo atto che ciò contribuirà ad avere in futuro adulti con minori rischi per malattie metaboliche e cardiovascolari. Il programma operativo ha beneficiato della collaborazione degli insegnanti, del dirigente scolastico, il professore Vito Pirruccio, e ha impegnato gli alunni e tutor rotariani ogni lunedì pomeriggio. Nella serata conclusiva, nella grande sala dell'hotel Presidente di Siderno, è stato sancito il successo di questo primo ciclo di progetto, con la pregnazione dei pimpanti e gioiosi bambini attorniati dalla grandissima partecipazione di genitori, insegnanti e gente comune, i quali, durante la convivialità del buffet, nei tanti momenti di interlocuzione con gli amici rotariani, hanno espresso l'unanime apprezzamento dei presenti e ciò ha fornito ulteriore stimolo a valutare di proseguire con il progetto in altre scuole del territorio, e perché no, anche come un esempio da replicare altrove.